Sicuramente, sicuramente perché dovevamo vincere penso, abbiamo sprecato troppo, ma se oggi guardiamo la classifica abbiamo quattro punti, francamente non sono quelli che ci spettano perché anche domenica meritavo qualche cosa di più. Giro male, però devo riconoscere che la squadra ha fatto una buona prestazione, piacevole, ci manca quella scintilla che ci porti a conquistare una vittoria, a vincere oggi qua per noi era fantastico, straordinario contro una squadra forte, ma la prestazione è notevole. La strada è giusta, l'ho detto già un mese fa, andiamo avanti cerchiamo di capitalizzare meglio quello che creiamo. Grazie.